A Torre del Greco nella giornata e ieri sono stati registrati 44 nuovi casi di positività da Covid-19, di cui un ripositivizzato in isolamento domiciliare. Questo affronta di 26 nuove guarigioni. E' stato comunicato anche il decesso di un uomo di 82 anni. Sale di nuovo quindi il bilancio agli attualmente positivi, ad oggi 364, di cui 24 ricoverati con sintomi, mentre sono 87 i torresi deceduti da inizio pandemia. Si aggrava anche il bilancio di Torre Annunziata, dove ieri sono stati registrati 29 nuovi casi di contagio a fronte di 14 guarigioni. I cittadini attualmente positivi salgono dunque a 447, di cui però solo 12 ricoverati. Sono invece 63 cittadini di Castellammare e Stabia risultati positivi al coronavirus nel periodo dal 22 al 25 gennaio. 39 di essi presentano sintomi lievi della malattia, i restanti sono asintomatici. Tra i nuovi contagiati ci sono 6 cittadini tra i 4 e i di 13 anni. I guariti per lo stesso periodo sono 22, tra di essi 4 stabbiesi tra i 4 e i di 16 anni. Grazie a tutti.